Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su All You Can Italy. Oggi vi parlo di un tema molto interessante che interessa molti di voi e su cui mi sono state fatte molte domande. I libri per l'autostudio, ossia libri per imparare o migliorare da soli la lingua italiana. Siete i benvenuti su All You Can Italy, il canale in cui chiunque può migliorare o imparare cose nuove sulla lingua italiana e sulla cultura del bel paese. Oggi, come vi dicevo, parliamo di alcune categorie di libri da poter usare per migliorare o perfezionare o anche imparare la lingua italiana da soli. Vi presenterò dei corsi completi, delle grammatiche, dei libri per migliorare il lessico, dei libri per migliorare le capacità di ascolto e anche dei libri in cui trovare o meglio studiare l'italiano specialistico. La nostra prima categoria riguarda i corsi completi, ossia libri che stimolano tutte le abilità linguistiche e che vi portano da una conoscenza base ad una avanzata. Vi presento alcuni dei corsi che uso anch'io nelle mie lezioni online ed altri che ritengo molto buoni. Certo, ci sono tantissimi libri e corsi. Io vi presento quelli con cui mi sono trovata meglio, con cui ho lavorato e lavoro tuttora. A proposito, se vuoi imparare l'italiano con me insieme ad uno di questi libri, puoi contattarmi in privato. Ti darò informazioni sulle mie lezioni online di italiano. Il primo manuale si chiama 10, è dell'Alma Edizioni ed è un corso con risorse online. È uno dei manuali che utilizzo al momento per i miei corsi. Un nuovo giorno in Italia, della Bonacci Löscia. È un corso di italiano per giovani e adulti. Un viaggio, o meglio una storia viaggio, molto avvincente e interessante. Un ottimo libro per imparare l'italiano sin dall'inizio. Della Alma Edizioni, Nuovo Espresso. Un corso di italiano per giovani e adulti che parte dal livello base A1 per arrivare fino all'avanzato C2. Ben sei libri che ti accompagneranno attraverso la conoscenza di tutta la lingua italiana. Italiano di base, sempre dell'Alma Edizioni. È un corso di italiano per migranti adulti. La particolarità di questo libro è proprio quella di essere adatto e di essere pensato per migranti che vivono in Italia e che hanno quindi bisogno di acquisire le conoscenze per parlare nella vita di tutti i giorni o anche per lavorare. Via del corso. Un corso di italiano per giovani e adulti che si basa su una avvincente storia thriller con i nostri quattro protagonisti che ci introducono, ci accompagnano con una storia video nello studio della lingua italiana. Della Guerra Edizioni abbiamo Nuovo Rete, un corso di italiano per giovani e adulti. Questo corso è pensato e realizzato da Marco Melzadri e Paolo Balboni, due corifee della lingua italiana, se quello che stai cercando è un libro che ti aiuti ad approfondire ed esercitare la grammatica italiana, e allora ho alcuni libri che fanno per te. Della Alma Edizioni abbiamo la Nuova Grammatica Pratica della Lingua Italiana. Una grammatica per i livelli base e intermedio ricca di spiegazioni molto semplici e di tantissimi esercizi veramente perfetti, vari e ben spiegati. Ricordate che questi libri di cui stiamo parlando sono tutti libri in lingua italiana. Se il tuo livello è più avanzato a partire da un P2, diciamo, puoi considerare di comprare la grammatica avanzata della lingua italiana, una grammatica con esercizi che affronta il tema grammatica in modo più puntuale, quindi in modo più avanzato e anche difficile dello scorso libro che ti ho presentato. E adesso, visto che parliamo di libri, non posso non presentarti il nostro. Impara l'italiano con le barzellette. La lingua italiana in 365 barzellette. Molto importante quando si studia una lingua straniera è il lessico. In questa sezione ti presento i libri che aiutano ad ampliare il lessico, ossia la conoscenza dei vocaboli. E sì, perché certo, senza grammatica non sappiamo come costruire una frase nel modo giusto, ma senza vocaboli rischiamo di finire senza parole e di dover tenere la bocca chiusa. Il primo libro che vi presento, sempre di Alma Edizioni, sono le parole italiane, un libro adatto a migliorare il lessico con moltissimi giochi ed esercizi appunto per ampliare il vostro vocabolario. Sempre di Alma Edizioni, del mio carissimo amico Roberto Tartaglione, un mitico insegnante di italiano per stranieri, le prime mille parole italiane. Un libro che vi insegnerà le prime mille parole base fondamentali quando si decide di imparare la lingua italiana. E se avete già imparato le prime mille parole, continuate a studiare e arrivate fino a tremila parole. Le prime tremila parole italiane di Alma Edizioni, sempre curato dal mitico Roberto Tartaglione, è un libro che vi consente di acquisire la conoscenza e l'uso di ben tremila vocaboli di lingua italiana. Una parola tira l'altra. Miglioriamo il lessico con questo testo della guerra edizioni che tratta, divisi per argomenti, i vocaboli più importanti e base della lingua. Vediamo dei testi per migliorare le capacità di ascolto. Eh sì, è una parte molto importante e sensibile nell'apprendimento di una nuova lingua, quella di migliorare ed esercitare la capacità di ascolto. Insomma, in una lingua straniera ci vuole orecchio. E noi vediamo i libri che ci consentono di raggiungerlo. Il primo è proprio Ci vuole orecchio, un libro di Alma Edizioni composto da ascolti autentici corredati da esercizi. Vi ho presentato qui il primo libro, ma ce ne sono ben tre. Quindi avete nell'uno il livello base, nel due l'intermedio e nel tre l'avanzato. Primo ascolto di Edilingua è anch'esso un testo, o meglio una serie di testi, con ascolti autentici ed esercizi per migliorare le capacità di comprensione orale. Una volta raggiunta una conoscenza media o anche avanzata della lingua italiana, può capitare di doversi o di volersi specializzare in un settore. Esistono molti testi che curano le conoscenze dei settori specialistici dell'italiano. Abbiamo ad esempio di Alma Edizioni l'italiano per economisti. Sempre di Alma Edizioni abbiamo l'italiano per giuristi, quindi tutti i vocaboli importanti da sapere nell'ambito giuristico. Alma Edizioni ci propone anche l'italiano per medici, ossia un libro che ci introduce e insegna il linguaggio per le professioni sanitarie. E soprattutto, oltre ai libri, ricordati di migliorare costantemente il tuo italiano dedicandogli un pochino di tempo ogni giorno. Se ne hai voglia, io ti invito ad imparare l'italiano con noi. E come? Ci trovi su YouTube al canale All You Can Italy. Su Instagram alla pagina Italia Benetti e nel gruppo Facebook Italian Language Online. Sarò felicissima di poterti accompagnare in un viaggio nella lingua e cultura italiana aiutandoti a migliorare in queste nostre tre pagine. Ma non solo. Se ti piacciono gli ascolti, e allora ti invito a seguire il nostro podcast su Spreca. All You Can Italy, un modo divertente e molto effettivo per migliorare le conoscenze di lingua italiana. I nostri show al momento sono due. Beh, abbiamo Italia, italiani e italianerie, in cui parliamo di tutto quello che è Italia, e audio storie in italiano. Un podcast dedicato all'ascolto di brevi brani di lingua italiana tratti da libri famosi. E adesso, che dire, non ti resta che, beh, mettere un mi piace se questo video ti è stato utile, e soprattutto iscriverti al nostro canale per non perdere nessuna delle nostre lezioni. Iscriversi al canale è completamente gratuito. Quindi, fallo subito, non ti costa niente. Ciao e alla prossima! Ciao!